Buongiorno, ieri a Napoli un imprenditore si è tolto la vita per la crisi economica che ha travolto la sua azienda. Parleremo anche di questo col ministro delle politiche agricole Teresa Bellanopla. Sigela, poi mi manda Raitrea. Allora, da lunedì i bar e i ristoranti hanno potuto riaprire i battenti in modalità asporto. Vi presento gli ospiti di oggi, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, professor Luciano Sbraga, direttore degli uffici della Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Maurizio Santori, comandante NAS di Roma. Buongiorno a tutti, vi faccio vedere questo titolo dal Tirreno, 16 mila euro di debiti, 16 caffè in una mattina. Sbraga è un titolo che fa riflettere. Quanti sono i locali associati alla Fipe che hanno deciso di riaprire con la possibilità di asporto? Buongiorno a tutti. L'asporto è stato accolto con molta attenzione da imprese che erano ormai chiuse da due mesi, quindi almeno il 50% delle nostre imprese hanno riavviato l'attività il 4 di maggio, con molto entusiasmo ma con altrettanta preoccupazione, perché è chiaro che l'asporto non è la soluzione al problema. Oggi c'è bisogno di ripartire pienamente, perché le attività sono chiuse dall'11 marzo, qualcuna anche dal 23 febbraio, quindi non riescono a stare in piedi, a gestire i costi, i tanti costi che hanno, soprattutto i costi di locazione e ovviamente tutti gli altri costi legati anche alla gestione dell'attività. Quindi il 50% ha avviato, soprattutto ristoranti, un po' meno bar, perché in alcune regioni ad esempio non è consentito l'asporto di bevande, quindi c'è una grande confusione, tutti stanno marciando in ordine sparso, è arrivato questo DPCM che consente di aprire per tutti dal 4, però le imprese sono abbastanza disorientate. Allora vi do i numeri per entrare in contatto con Mi Manda Rai 3, il nostro canale Whatsapp 345-3131994, c'è la mail mi manda rai3-chiocciolarai.it, potete commentare la puntata in diretta sulla nostra pagina Facebook che vedete in sovraimpressione. Vediamo le previsioni, intanto con l'asporto, quanti locali sono aperti, il 30% dei locali della ristorazione, 60-70% delle pizzerie e gelaterie, il 10% dei ristoranti. A Roma il 70-80% tra bar e ristoranti. Vediamo anche le previsioni di fatturato, in questi giorni sarà dell'8-10% rispetto a prima dell'emergenza, alla riapertura totale sarà del 30%. Per molti ristoratori accettare l'asporto significa cambiare radicalmente l'offerta del proprio locale. Vediamo questo servizio, poi torniamo in studio. Questo è uno dei tanti ristoranti di lusso del centro, come ce ne sono in tutte le città italiane. Oggi riapre per l'asporto e questo è il menù. Oggi primo giorno di riapertura, quanti coperti avete fatto da asporto? Da asporto poco e niente oggi, essendo il primo giorno speriamo in qualcosa di positivo per il resto. Oggi abbiamo preparato pomodoro e al riso con patate, diversi primi piatti, pomodoro e basilico, ragù, gricia, carbonara, matriciana e alcuni secondi, petto di pollo e hamburger. Ed è la prima volta che fate asporto? Sì, abbiamo l'unica opzione questa per ora, ce la facciamo bastare. È conveniente? Secondo me no, però purtroppo è l'unica soluzione per ora, anche perché le spese non si sono fermate, quindi cerchiamo di tirare avanti il più possibile. La vostra clientela va contattato? Alcuni sì, altri no, forse perché lavorano da casa con lo smart working, però aspettiamo notizie. Prima di ascoltare altre testimonianze, apriamo una finestra sulle difficoltà del settore agricolo al centro del dibattito politico. Saluto e ringrazio la Ministra per le politiche agricole, Teresa Bellanova, collegata con noi. Grazie Ministro per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Ieri un imprenditore napoletano si è tolto la vita per le pressioni economiche causate dalla chiusura forzata della sua azienda. Come rappresentante del governo pensa siano state adottate misure adeguate? Vorrei un suo commento su questo. Abbiamo adottato misure ma non ancora sufficienti. Ma la prima misura che bisogna adottare è quella che bisogna smetterla da parte di tanti di pensare che in Italia gli imprenditori vanno chiamati prenditori. Ci sono tanti uomini e tante donne che portano avanti le loro imprese e con sacrifici, con difficoltà cercano di mantenere la competitività e il rispetto dei diritti dei lavoratori. E noi di fronte a queste persone dobbiamo solo dire grazie per quello che fate e dobbiamo lavorare non per sovraccaricarli di burocrazia e di costi ma per cercare di dare sostegno, liquidità e trovare le condizioni per ritornare a competere nel mondo. Quando io sento proposte tipo bisogna lavorare meno e avere lo stesso reddito sento che c'è una presa in giro per i lavoratori e anche un insulto a questi imprenditori. Sono parole importantissime. Noi siamo uscendo da una fase difficile e dobbiamo sostenere la competizione, dobbiamo guardare in faccia le persone. Tanti imprenditori, tanti imprenditrici sono persone che hanno dignità, valori e che rispettano la dignità degli altri. Sono felice di queste sue parole, Ministro. Sono giorni caldissimi. Lei è in prima linea per salvare le tante coltivazioni a rischio per la mancanza di lavoratori nei campi. A che punto siamo? Ma siamo adesso in una discussione che non mi piace. E' una discussione politicista, la definisco io, dove invece di trovare le soluzioni si ha paura di assumere responsabilità. Noi abbiamo in questo momento davanti una necessità. Trovare persone per andare a lavorare nei campi. Una parte di queste persone venivano dai paesi dell'est che adesso sono nel pieno della pandemia, così come siamo stati in Italia, e non vengono, nonostante i corridoi verdi e abbiamo tante persone che stanno nel nostro paese, che vivono in modo irregolare, sia nelle famiglie che nelle campagne, e noi dobbiamo dare una prospettiva per lavorare nella legalità. In questo momento invece io trovo in alcuni rappresentanti del governo del quale faccio parte una piega che non mi piace, perché non si vuole misurare con la realtà che è nel nostro paese sotto gli occhi di tutti. La sua proposta è quella di regolarizzare i tanti stranieri che lavorano nei nostri campi. Molti però, Ministro, le chiedo, vorrebbero far lavorare chi percepisce il reddito di cittadinanza. Lei che pensa su questo? Guardi, io proprio perché voglio lavorare per trovare una soluzione ed uscire da una polemica insulsa, dico che il reddito di cittadinanza non è lo strumento adatto per affrontare la disoccupazione e la povertà in Italia. Ma in questo momento, visto che dobbiamo dare una risposta ad un'emergenza, che è quella di non far marcire i prodotti nei nostri campi, diamo alle persone che vogliono la possibilità di cumulare il reddito di cittadinanza e il lavoro stagionale, sapendo che parliamo di giornate di lavoro, di 10-20 giornate, diamo questa possibilità a chi lo vuole fare. Ma se le persone non lo vogliono fare, o li togli il reddito di cittadinanza e in questo momento apriamo una polemica enorme, oppure devi trovare delle alternative. Un'alternativa importante è quella di far lavorare nella legalità che oggi lavorano attraverso i caporali che rendono schiavi i lavoratori e spesso ricattano le imprese. E poi vorrei dire una cosa a tutti quelli che dicono ma si può andare a lavorare nei campi? Certo che si può lavorare nei campi, certo che si possono acquisire professionalità, ma guardate quei lavoratori immigrati che sono stati scoperti dalla magistratura ieri, per i quali sono stati arrestati quattro caporali e imprenditori. Queste persone venivano dal Pakistan senza permesso di soggiorno e facevano non lavori umili dell'agricoltura, facevano lavori che sono tra le eccellenze delle nostre campagne e la potatura. E allora non tutti possono fare la potatura, c'è bisogno di professionalità anche nel lavoro nei campi e questo sarebbe un atto doveroso di rispetto che è dovuto a queste persone e al settore. Riconoscerlo. Senta Ministro, la proposta prevede di estendere la regolarizzazione anche ai lavoratori dell'edilizia e ai collaboratori domestici sommersi. È l'unico modo secondo lei di combattere lo sfruttamento e le irregolarità? Guardi, in Italia ci sono centinaia di migliaia di donne e di uomini che lavorano nelle nostre famiglie e accudiscono gli affetti più cari, gli anziani e i figli. Noi siamo in presenza della pandemia con tante persone che di fronte a quello che è accaduto si stanno magari riportando anche i genitori a casa e non hanno la possibilità di avere persone da assumere in modo regolare perché a queste persone manca il permesso di soggiorno. Allora, se non si vuole essere non solo complici ma addirittura organizzatori del caporalato e dell'illegalità bisogna dare alle imprese la possibilità di trovare lavoratori e lavoratrici in modo regolare e ai lavoratori di lavorare con un contratto di lavoro legale. Questa è la responsabilità che è consegnata alle scelte che il governo deve fare nelle prossime ore. Senta, Ministro, doveva essere fatta, se non sbaglio, una piattaforma per far incontrare domanda e offerta. A che punto è? Ecco, la domanda e l'offerta è nel piano di contrasto al caporalato e da settembre che ho scritto lettere al Ministero del Lavoro che ho sollecitato negli incontri che abbiamo fatto oggi leggo, mentre ieri la Ministra del Lavoro diceva che eravamo già pronti con la piattaforma e addirittura con l'app per incrociare domanda e offerta di lavoro oggi leggo che quelli che sono stati chiamati l'americano perché è venuto a dirigere l'Ampal, l'agenzia nazionale che dovrebbe proprio garantire l'incrocio domanda e offerta di lavoro che dichiara che intanto si farà un numero verde che lui proporrà alle regioni e che comunque siamo fuori tempo massimo e quindi la conseguenza di questo, sa qual è? Quando io ero ragazza, nella piazza del mio comune i caporali andavano e dicevano ai lavoratori e alle lavoratrici agricole tu sì, tu no. Erano i caporali che dicevano se dovevi vivere o dovevi essere consegnata alla povertà più assoluta e brutale. Purtroppo in queste ore leggendo le dichiarazioni dell'americano Parisi io mi rendo conto che siamo precipitati in quella situazione e credo che questa sia una condizione intollerabile perché le aziende per poter lavorare nella legalità devono sapere dove devono andare a cercare i lavoratori perché altrimenti tra far marcire i prodotti nei campi e rischiano di rivolgersi al caporale e di entrare in una spirale di criminalità che li opprime e li porterà spesso via anche i raccolti. Quindi non solo c'è il rischio di perdere il raccolto ma di far proliferare anche sacche di criminalità la nostra filiera agricola è fatta di prodotti di eccellenza prodotti esportati in tutto il mondo quanto ha inciso questa emergenza sanitaria sull'export cioè sull'esportazione di questi prodotti? Molto, ha inciso molto perché è evidente che come abbiamo registrato in Italia la chiusura della catena dove si commercializza soprattutto l'eccellenza, i ristoranti, le enoteche, i bar così è accaduto anche in altri paesi oltre a un rallentamento dell'esportazione in generale questo è inciso nella parte più alta, più nobile della filiera agroalimentare ed è proprio la ragione per la quale sto combattendo perché all'interno del decreto che andiamo a fare come governo ci deve essere un fondo per il sostegno forte alle imprese dell'agroalimentare perché noi non possiamo permetterci non solo di non distruggere i nostri prodotti non possiamo permetterci di non distribuire il cibo a un costo accessibile a tutti e per fare questo dobbiamo mettere le imprese nella condizione di produrre a costi sostenibili e soprattutto insieme a questo dobbiamo salvaguardare quella filiera dell'export che ci ha messo in condizione non solo di dire che l'agricoltura italiana è il lusso nel mondo ma anche che noi distribuiamo cibo di eccellenza che fa bene al palato ma fa bene anche alla salute dei consumatori Ministro, io spero che i suoi interventi diano una boccata d'ossigeno ovviamente a tanti coltivatori a tanti agricoltori che scrivono tutti i giorni a Mi Mandarai 3 chiedendo ovviamente aiuti al governo so che sta facendo questa battaglia e la porterà avanti fino in fondo intanto la ringrazio, la aspetto magari tra qualche settimana per fare un altro punto con lei qui a Mi Mandarai 3 grazie per aver partecipato e per essere stata nostra ospite grazie a voi, ritorno con piacere grazie e noi con piacere la accoglieremo Ruben Calun, cosa scrivono i telespettatori su Facebook? Sì, scrivono sempre rispetto alla questione dell'agricoltura che ci sono impenditori onesti però ci sono anche quelli che utilizzano manodopera straniera per l'appunto controllata e poi rispetto al cibo d'asporto si domandano se per l'appunto o gli orari di apertura e chiusura rischiano di portare troppa gente per la strada Ecco, questi i commenti dei nostri telespettatori ovviamente scrivetecci non possiamo rispondere a tutti ma le vostre domande le leggiamo tutte e ovviamente ne facciamo spunto per girarle poi ai nostri consulenti forse ci sono, lo dico alla mia amica Antonella operatrice sulla destra notizie dell'ultima ora per Doriana Leonardo sentiamo Sì, l'Istat rende noti i dati sulle vendite al dettaglio di marzo e stima un calo rispetto al mese di febbraio del 20,5% a diminuire sono i beni non alimentari mentre le vendite dei beni alimentari sono stazionari e aumentano per i supermercati del 14% il dato positivo, come era prevedibile lo fa registrare il commercio elettronico con un 20,7% in più Allora, ascoltiamo le voci di chi ha riaperto in questi giorni siamo collegati con un proprietario di una caffetteria di Brescia se non sbaglio si chiama Thomas Buongiorno Thomas Buongiorno Da quanto tempo era chiuso lei? Siamo stati chiusi due mesi marzo e aprile Mi dica le conseguenze economiche di questa chiusura Significative Significative abbiamo deciso di ripartire avendo noi poi come specialità il caffè 100% rabbica e il pannino italiano abbiamo così creato due categorie di box, colazione e pranzo e per ogni categoria abbiamo stabilito due menu case ufficio a base fissa e con l'apertura del 4 maggio abbiamo potuto aggiungere al servizio di delivery anche il servizio take away come si vede nelle foto che stanno scorrendo lo serviamo dalla nostra finestra che si affaccia sulla via e ci permette di poter servire anche i nostri prodotti all'istante purché non consumati sul posto Senta, le è convenuto riaprire col servizio da asporto Thomas? Il suo sospiro mi dice tutto Ho capito, grazie Bisogna ripartire Bisogna ripartire Bisogna ripartire Bravo Thomas, grazie Bisogna rimboccarsi le maniche in questo momento Allora, parlavamo delle riaperture le regole per i clienti ristorazione con asporto Vediamole Dorigo Le regole per i clienti obbligo della distanza di almeno un metro anche nell'attesa divieto di consumare all'interno del locale divieto di sostare e consumare nelle immediate vicinanze ordine per telefono o online ritiro fuori dall'esercizio Donegani, se il locale non offre spazi all'esterno colazioni e pranzi dovranno essere consumati in strada o negli uffici che accortezze dobbiamo adottare? Beh, l'accortezza fondamentale è quella comunque di cercare di mantenere la distanza interpersonale anzi direi che è essenziale perché questo è il veicolo di contagio fondamentale questo vuol dire evidentemente usare il buonsenso quando si dice che non devono essere come dire non ci devono essere consumi nelle immediate vicinanze è evidente che lo scopo di questa norma è quello di evitare assembramenti colloqui eccetera come avviene normalmente quando si prende un caffè e si ha il gusto di starlo al punto al bar in realtà se ci sono spazi anche non molto lontani che permettono la distanza interpersonale il caffè va bevuto caldo uno si può anche sedere su una panchina e berselo Comandante Santori dopo una lunga chiusura riaprire i battenti non è facile prevedete controlli altri controlli per verificare la messa a norma delle strutture di ristorazione? La riapertura è sicuramente un momento molto delicato una buona igiene una sanificazione dei locali sono alla base della ripartenza certo momento delicato in cui operiamo con equilibrio e con buonsenso non saranno tollerate condotte fraudolente assolutamente non c'è dubbio anche gli agriturismi in attesa di tornare all'attività originaria si sono votati all'asporto apriamo una finestra con il nostro inviato Fumiento Danilo dove ti trovi esattamente? Buongiorno Salvo mi trovo a Valentano vicino Viterbo e questo è un posto davvero meraviglioso ho sentito che parlavate di prodotti locali di prodotti di eccellenza e qui di prodotti della terra se ne fanno tantissimo Davide la tua è un'azienda familiare state cercando di ripartire anche con il servizio d'asporto da questo weekend vi siete messi in moto Buongiorno Danilo buongiorno a tutti sì ci siamo messi in moto per l'asporto da questo weekend aspettiamo i nostri clienti che vengano a ritirare i nostri prodotti i nostri pranzi preparati da portare a casa poter mangiare degustare e anche per un attimo potersi godere i nostri spazi aperti che le nostre aziende mettono a disposizione dei suoi clienti vivendo nella natura immerse nella natura rispetto Davide questo è stato un periodo difficile avete avuto tantissime spese voi avete dei mutui avete cercato di mettere questa che è un'azienda familiare al meglio siete andati avanti anche consegnando i vostri prodotti che vediamo qui ci vuole un anno per preparare tutti questi prodotti e il rischio è di vedere andare buttato il lavoro di un anno sì è vero allora ci siamo subito messi in modo con la consegna a domicilio tramite campagna amica col diretti che ci hanno aiutato ci stanno aiutando ci stanno sopportando e abbiamo iniziato a fare la consegna a domicilio da subito per poter diciamo dare ai nostri prodotti la giusta destinazione che non sia quella di portarli al macero cioè noi lavoriamo un anno intero per mettere sui piatti dei nostri clienti i nostri prodotti di conseguenza dovevamo obbligatoriamente muoverci e poter ripeto dare la giusta destinazione ai nostri prodotti grazie Danilo abbiamo visto un gran ben di Dio ci è venuto un po' di acquolina in bocca non sono tutti però i ristoratori che hanno accettato di riaprire a condizioni di asporto siamo collegati con Angelo da Firenze Angelo buongiorno 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 dottor Sottile a lei e ai suoi ospiti senta che tipo di ristorante ha lei? ma io un ristorante tipico di cucina toscana nel centro di Firenze di un centinaio di ospiti possiamo ospitare un centinaio di persone senta perché ha rifiutato la soluzione tampone dell'asporto? ma abbiamo rifiutato la funzione tampone dell'asporto perché riteniamo che le spese per fare questo tipo di lavoro siano superiori a quello che è poi il vendito che si può ricavare da qualche chiamata per qualcosa che poi potrebbe anche non essere ordinato noi andiamo a preparare una certa tipologia di prodotti che possono essere tre o quattro primi tre o quattro secondi poi magari non vengono consumati e vengono viettati e comunque ci vuole del personale che prepara questa roba personale che bisogna pagare ovviamente che bisogna pagare ovviamente nessuno lavora gratis soprattutto in questo momento che non hanno anche la cassa integrazione indietro che sono tutti un po' disperati come lo siamo noi imprenditori d'altra parte è vero che lei a un certo punto ha pensato di restituire la licenza dopo più di 40 anni? Sì sono per l'esattezza 47 anni che siamo qua sì adesso un punto così tragico non l'avevamo mai avuto quindi sapere di non avere un futuro perché noi nel centro storico di una città d'arte come Firenze il futuro sarà ancora nero perché riapriremo senza avere la possibilità di avere i turisti noi viviamo sui turisti viviamo con l'80% di turismo e con un 20% senza turisti lei dice come facciamo ad andare avanti ecco perché il governo dovrebbe aiutare soprattutto queste persone che si trovano in difficoltà nel pagare i dipendenti aprire la sala cinesca per un commerciante ha delle spese alle spese dell'affitto dei dipendenti lo diciamo tutte le mattine Angelo le faccio tanti auguri mi raccomando tenga duro sì teniamo duro però la situazione è veramente difficile lo so dovrà prendere provvedimenti con della liquidità immediata perché altrimenti noi siamo costretti a chiudere e tutti i nostri dipendenti si troveranno in cassa integrazione si troveranno in disoccupazione con oneri molto molto grandi anche per lo Stato grazie Angelo Sbraga gli affitti sono una delle voci che pesano più su questa crisi quali agevolazioni sono state introdotte finora soltanto una il tax credit del 60% per gli immobili di categoria catastale C1 per il mese di marzo stiamo aspettando ancora gli interventi per aprile anche ovviamente per maggio perché siamo ancora chiusi ma soprattutto per i prossimi mesi perché dobbiamo metterci bene in testa che i prossimi mesi saranno comunque complicati perché il distanziamento interpersonale porterà ad una riduzione del 40% dei coperti quindi le aziende non potranno lavorare a pieno regime dovranno andranno sicuramente in sofferenza quello che ha detto il ristoratore di Firenze è emblematico e allora se mi permette dottor Sottile vorrei fare una riflessione la ministra Bellanova ha parlato a favore della filiera agroalimentare ebbene in questa filiera agroalimentare la ristorazione c'è a pieno titolo pensi che noi acquistiamo 20 miliardi di prodotti agroalimentari ogni anno come ristorazione se la ristorazione non riparte c'è un'intera filiera che non riparte non c'è dubbio quindi ci sono 1,2 milioni di lavoratori che hanno la stessa dignità dei lavoratori di tutti gli altri settori che oggi sono fermi e che rischiano il posto di lavoro per i prossimi mesi quindi vorremmo anche noi un ministro che parlasse a favore del mondo della ristorazione che è il settore probabilmente più in crisi oggi che è colpito da una doppia crisi grazie Sbraga grazie anche al comandante Santori a Donegani mi scuso con loro ma oggi era una puntata mini di Mi Manda Rai 3 però prima di lasciarvi vi voglio ricordare un appuntamento importante lunedì prossimo 20 e 20 su Rai 3 parte un nuovo programma si chiama Palestre di Vita racconta questo lockdown che abbiamo vissuto e il rapporto tra gli italiani e lo sport indovinate chi lo conduce guardate tu sei una mamma giusto Diana? io sono mamma di due binghi uno di sei e uno di tre chi è dei due che è stato male? me lo racconti? Lorenzo quando aveva tre anni ha avuto un lungo ricovero ospedaliero Lorenzo stava male un altro se non sbaglio era nato da poco Diego aveva cinque anni quando Lorenzo è stato ricoverato Palestre di Vita da lunedì 11 maggio 20 e 20 tutti i giorni su Rai 3 adesso c'è tutta salute noi ci vediamo domani mattina su Rai 3 alle 10 ciao